Salve ragazzi, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. Gestire un'alimentazione efficace ed efficiente per un surfista italiano è molto difficile quando non si hanno le conoscenze di base, perché non si può sempre programmare la surfata, ma è la surfata che programma il surfista. Inoltre, quando si viaggia per surf diventa ancora tutto più complicato e spesso la prestazione ne risente dopo qualche giorno. La perdita di peso in queste situazioni è frequente di chi non sa ben gestire le cose. Essere in grado di affrontare lunghe sessioni di surf e mantenere un alto livello di energia durante tutta la sessione richiede una dieta adatta alle proprie esigenze e consapevolmente più nutriente possibile. In questo video vi svelo certe verità nascoste e incomprese che ho acquisito nella mia esperienza sportiva e professionale. Precisazione. Le quote dei macronutrienti consigliate in questo video si rivolgono a soggetti in forma e in salute, sia uomini che donne, con una percentuale di massa grassa sui valori fisiologici. Vi dirò del range di riferimento per l'incremento della prestazione e miglioramento della composizione corporea. Per chi è in sovrappeso saranno diverse non solo per le caratteristiche personali, ma anche in funzione della perdita del grasso corporeo. Siate sempre riflessivi e confrontatevi con un professionista per imparare e non solo per eseguire. Capitolo dei macronutrienti e alimenti per un surfista. Carboidrati. Per prima cosa i carboidrati complessi dovrebbero costituire una buona parte della dieta di un surfista. Cereali integrali, avena, riso, patate, tuberi e legumi. Questi alimenti ci forniscono un rilascio graduale di glucosa e quindi un miglior partizionamento verso le riserve muscolari ed epatiche. Per avere energia necessaria durante tutta la sessione e mantenere un buon livello di prestazione nelle condizioni più impegnative della surfata. Come quando ci si becca un mulinello di corrente o un set particolarmente anomalo e violento sulla testa mentre si cerca di raggiungere la line up. Anche la frutta come fonte di carboidrati è importante inserirla nella dieta. Senza esagerare, durante i passi principali, è invece inserirla più spesso durante le sessioni più lunghe tra un break e l'altro. Per ripristinare soprattutto le riserve di glicogeno epatico che sono quelle di cui il fruttosio ha come via preferenziale. Il glicogeno epatico garantisce i livelli di glicemia stabili per non avere cali di energia soprattutto a livello cognitivo. Ci aiuta a farci percepire meno la sensazione di fatica. Quindi utilizzare la tipologia di frutta che si sa che si digerisce bene durante le pause, come possono essere ad esempio delle banane abbastanza mature per la loro caratteristica di contenere sia glucosio che fruttosio in poco volume di alimento e che hanno anche un buon apporto di potassio e altri sali minerali. Anche la frutta disidratata come datteri albicocchio uvetta sono uno snack furbo per la loro caratteristica di elevata densità energetica essendo prive di acqua e sono anche facilmente trasportabili ovunque. La frutta inoltre è di primaria importanza nella dieta di un surfista per gli antiossidanti. Minerali e molecole che aiutano a contrastare lo stress ossidativo dato dall'intensità dell'esercizio fisico e dall'esposizione spesso eccessiva ai raggi solari. Variate la frutta in base alla stagione e quando si è dall'estero la frutta locale è una categoria di cibo molto economica e nutriente. La quota giornaliera di carboidrati dovrebbe oscillare da un minimo di 3 grammi fino a 7 grammi per chilo di peso corporeo e vanno aumentati o diminuiti in base alle proprie caratteristiche fisiche, obiettivi e frequenza delle surfate e allenamento. Trovate la giusta quota che si adatta meglio alle vostre esigenze valutando l'energia durante le sessioni, il peso settimanale in relazione allo specchio se conferma un incremento di massa grassa o un miglioramento della qualità muscolare così sempre da aggiustare il tiro diminuendo o aumentando la quota giornaliera. Proteine. I surfisti devono consumare un adeguato apporto di proteine di alta qualità per riparare e proteggere le fibre muscolari, legamenti, pelle, occhi e i tessuti sottoposti allo stress della surfata e promuovere il mantenimento e la crescita muscolare. Le fonti principali di alta qualità sono di origine animale come le uova, il pesce, la carne fresca non processata, l'interiora, i latticini e gli insetti. Per chi fa invece una dieta prettamente vegana consiglierei di cambiare sport. Scherzo, non mi odiate, seguo anche diverse persone vegane che in questo momento mi staranno insultando. Ciao! In caso di dieta vegana bisognerebbe utilizzare legumi e cereali non per forza nello stesso pasto ma almeno inserirli nella stessa giornata anche in pasti diversi per completare lo spettro amminoacidico e considerare l'integrazione di proteine in polvere del riso integrale e pisello. Anche la soia ma senza abusarne perché viene utilizzata troppo frequentemente come principale fonte di proteine e si trova ormai dentro ogni prodotto vegano di qualità discutibile. Nel tempo il suo abuso potrebbe portare in persone sensibili disfunzioni ormonali e intolleranze intestinali se usata ogni santo giorno ad ogni singolo pasto per raggiungere la propria quota proteica. Soprattutto da cibo industriale così come tutti i prodotti proteici a base di glutine. Provate anche i lupini e variate diverse tipologie di legumi anche in forma di farine biologiche. Ma valutate sempre l'apporto di carboidrati che questa tipologia di alimenti apporta perché non sono solo fonti proteiche ma principalmente di carboidrati se non solo quelle estratte in polvere utilizzati sotto forma di integratori proteici. La quota giornaliere in grammi di proteine dovrebbe essere in un range di 1.6 a 2.5 per il proprio peso corporeo. Anche qui in base alle proprie caratteristiche esigenze individuali al volume e frequenza di allenamento esser fate ma le fare oscillare sempre circa il doppio in grammi del proprio peso corporeo per gli uomini e 1.6 per le donne senza troppi sbattimenti. Rediligendo sempre fonti animali se eticamente possibile. Grassi. Gli acidi grassi svolgono diverse funzioni molto importanti sia per l'aspetto energetico durante lo simolo aerobico ma anche cognitivo, ormonale, per l'assimilazione di tutte le vitamine liposolubili e per la preservazione dei tessuti articolari. I grassi fanno tante belle cose non vanno demonizzati se non solo quelli di scarsa qualità. Ritengo fondamentale per questo macronutriente utilizzare solo fonti di qualità migliore possibile che ora vi menzionerò. Ma anche di questi grassi buoni non bisogna abusare in una dieta di un surfista. I grassi dovrebbero essere quelli più controllati né troppo bassi né troppo alti per permettere al corpo di instaurare una buona flessibilità metabolica però più rivolta all'utilizzo dei carboidrati come substrato energetico primario. Un eccesso di grassi potrebbe compromettere questo nel tempo andando a creare una resistenza insulinica verso il tessuto muscolare e quindi immagazzineremo meno glicogeno di quello che invece potremmo immagazzinare compromettendo anche la nostra capacità di stoccaggio. Le migliori fonti di grassi da incorporare nella dieta di un surfista sono principalmente quelli dell'olio d'oliva, avocado, mandorle, pistacchi, noci, noci del Brasile, noci di macadamia che a mio avviso sono quelle che presentano un profilo lipidico migliore di qualsiasi altra noce. Il cacao cioccolato fondente, il cocco per i più esotici, i grassi polinsaturi di origine animale omega 3 contenuti nei pesci grassi selvaggi, nel pesce azzurro, nelle carni grasse allevate al pascolo, nel torro d'uovo di galline selvagge. Anche inserire grassi di formaggi stagionati e di latticini interi fermentati. Quelli invece principalmente da limitare o evitare il più possibile sono i polinsaturi di origine vegetale. Gli oli di semi, le fritture fatte con questi tipi di oli, grasso di carni e pesci da allevamento intensivo e non abusare del burro di arachidi che in buona parte apporta molti grassi pro-infiammatori. Assolutamente da evitare quelli trans-idrogenati come le varie margarine, panne e burri vegetali e che si trovano in molti prodotti industriali come biscotti, merendine, creme spalmabili, patatine in busta, gelati confezionati e pasti pronti pre-confezionati o surgelati. Soprattutto all'estero se ne fa largo uso. Quindi guardate sempre le etichette quando docchiate quel cibo spazzatura che vi sussurra comprami che ti faccio godere. Importante è inserire i grassi nei pasti più lontani dalla sessione di surf, circa 3 ore, ovviamente in base alla quantità che ne utilizzate. Perché rallentano la digestione e questo processo vi ruberà tanta energia da utilizzare nella prestazione. Se ne mangiate troppi, anche solo un'oretta prima di entrare a mollo. Ovvio che non saranno una decina di mandorle a creare questo problema, ma un panino con la cotoletta sì. La quota giornaliera di grassi consigliata per me dovrebbe essere di non oltre un grammo per il proprio peso corporeo. In casi particolari di metabolismo ipersonici si andranno comunque ad aumentare, ma non mi spingerei oltre il grammo e mezzo per il proprio peso corporeo, solo per questa tipologia di soggetti ipersonici. Oscillando in un range tra 0,5 e un grammo del proprio peso corporeo, assicuriamo di non far mancare nulla al nostro organismo, ma sempre grassi di qualità, variando le fonti quotidianamente. Verdure e ortaggi, fondamentali nella dieta di un surfista. Questi alimenti forniscono vitamine, minerali e antiossidanti necessari per sostenere la salute generale del corpo e prevenire eventuali danni causati dall'esposizione costante al sole e radicali liberi. Inoltre aiutano nei processi digestivi e regolarità intestinale. Meglio essere più leggeri quando si è in acqua. Non potete soffrire di stitichezza quando surfate. Prediligete sempre una buona quota di verdure ortaggi stagionali a chilometro zero di diversa natura e colore. Nei pasti principali, lontani dalla sessione di surf o allenamento, per la questione del rallentamento dei processi digestivi. Prima di buttarvi in acqua, non mangiatevi due finocchi perché siete a dieta, tanto per capirci. Acqua, il nutriente più importante di tutti e che viene sempre sottovalutato soprattutto dai surfisti. La perdita di liquidi durante la prestazione sportiva può avvenire attraverso tre meccanismi distinti. Sudorazione in ambienti caldi e quando si indossa la muta di neoprene. Minzione molto frequente e respirazione. In questo studio randomizzato si vince come l'aumento della durata della surfata e della temperatura dell'acqua sono direttamente proporzionali ad un aumento della perdita di liquidi. Sessioni oltre 90 minuti prevedono un tasso di disidratazione anche al di sopra dell'1%, in base allo stato di partenza di idratazione dei soggetti. In queste condizioni la prestazione può già essere compromessa e quando supera il 2% lo è. Sulla base di questi dati si è determinato che la temperatura dell'acqua, la durata e la composizione corporea dei soggetti hanno tutto un impatto significativo sulla quantità di liquidi persi durante l'attività surfistica, con le perdite di liquidi più significative che si verificano negli ambienti più caldi. Dati i risultati dello studio, quando i surfisti sanno che surferanno per un periodo di tempo prolungato, con temperature ambientali elevate, la necessità di un aneguato livello di idratazione priva di entrare in acqua è essenziale, poiché non c'è alcuna possibilità di reintegrare i liquidi persi durante l'attività. I surfisti devono essere istruiti sulla necessità di idratarsi prima, sui segni premonitori della disidratazione e su quando uscire dall'acqua per reidratarsi. In generale è consigliato consumare da 500 ml a un litro di acqua per prevenire la disidratazione e il calo delle prestazioni prima dell'ingresso in mare, inserendo anche un complesso di sali minerali come potassio, magnesio e soprattutto sodio. Il bilanciamento corretto dovrebbe essere circa 500 mg di sodio per ogni litro di acqua. Non bevete solo litri di acqua a basso contenuto di sodio perché in maniera inversa risulterà ancora più nocivo e nei casi più estremi potrebbe sfociare in iponatremia, cioè una diminuzione della concentrazione sierica di sodio causata da un eccesso di acqua rispetto al soluto. Le bevande sportive isotoniche contenenti elettroliti e zuccheri semplici possono essere utili per prevenire la disidratazione e il declino delle prestazioni in sessioni oltre le due ore da utilizzare durante le pause fuori dall'acqua. Passiamo quindi al capitolo integrazione. Un'integrazione ergogenica utile di contorno per la prestazione del surfista per me dovrebbe includere di base i seguenti supplementi. Creatina. La creatina è un integratore molto popolare tra gli atleti di diverse discipline sportive, compresi i surfisti, per la sua efficacia documentata dalle moltissime evidenze in letteratura scientifica. Le ragioni per cui la creatina può essere un ottimo integratore per i surfisti è principalmente per il suo contributo nell'aumentare i livelli di adenosina trifosfato o ATP di tutte le cellule del corpo, la nostra principale fonte di energia. Ciò può aiutare i surfisti a remare più intensamente, resistere a sessioni di surf più lunghe e migliorare la forza esplosiva nelle manovre più potenti e violente. Inoltre adeguati livelli di creatina forniscono un recupero più rapido ed una maggiore idratazione della cellula, quindi può aiutare a ridurre il tempo di recupero muscolare, consentendo di tornare in acqua il giorno dopo con meno dolori. Poi ci sono anche da considerare i suoi effetti neuroprotettivi e quindi aiutarci a leggere meglio le onde, migliorare il timing e la coordinazione neuromuscolare, ma anche il declino cognitivo nei surfisti più avanti con l'età. E già. Consigliata da utilizzare 3-5 grammi in cronico ogni giorno con un pasto, soprattutto per chi fa alimentazione prettamente vegetale o ha ridotto il consumo di carne specialmente rossa. Va bene anche per le donne e non crea ritenzione extracellulare, anzi la migliora se fate surf e vi allenate intensamente e regolarmente anche fuori dall'acqua. Caffeina. La caffeina è noto per il suo effetto stimolante sul sistema nervoso centrale e può aiutare a migliorare la concentrazione, la coordinazione, la reattività e la precisione nei movimenti. La caffeina inoltre può aiutare a ridurre la percezione di fatica e migliorare la resistenza durante la sessione. L'unico neo è il suo effetto diuretico che se non siete in uno stato ben idratato potrebbe portarvi una disidratazione più rapida nelle lunghe sessioni di surf. Quindi beveteci anche dell'acqua su prima di entrare a mollo e monitorate il vostro stato di idratazione senza arrivare a sentire la sete chimica. La dose consigliata mezz'ora prima della sessione è 300 e 300 milligrammi in base alla propria tolleranza. Dovete capire qual è la vostra soglia che non vi porta effetti negativi come nervosismo, aumento eccessivo del battito cardiaco, ansia o irriequetezza. Un espresso a circa 80 milligrammi di caffeina. Nelle bevande energetiche controllate sempre il contenuto di caffeina perché di solito non è meno di 150-180 milligrammi per lattina. La taurina. La taurina è un amminoacido semi-essenziale e per un surfista sarebbe un'ottima combo con la caffeina per il suo ruolo modulatorio gabanergico. È utile assumerla insieme alla caffeina per prolungare gli effetti cognitivi positivi di quest'ultima, modulando il picco che la caffeina può dare da sola rendendo più lungo il senso di concentrazione e minore percezione della fatica. Inoltre ho inserito la taurina per un aspetto riscontrato in letteratura scientifica e che per i surfisti risulta essere a mio parere importante. L'integrazione di taurina sembra avere un ruolo nei processi di termoregolazione del corpo, soprattutto negli ambienti più caldi. Sulla base di alcuni studi randomizzati, una singola dose di taurina da 1 a 3 grammi prima dell'esercizio fisico fornirebbe un effetto termoregolatore, quindi prevenendo maggiormente la disidratazione, la sensazione di fatica e migliorando indirettamente la performance sportiva. La ritengo utile da utilizzare soprattutto nelle sessioni di surf più calde. Inoltre un altro aspetto interessante della taurina è la riduzione significativa di concentrazione accumulata di lattato, quindi potrebbe dare una maggiore sensazione di energia senza quella percezione di esaurimento muscolare, soprattutto quando si rema tanto in condizioni più impegnative, che ci fanno rallentare o fermare per la sensazione di bruciore muscolare. E per ultimo sembra essere utile anche per la prevenzione di crampi dovuti a sessioni molto lunghe ad esaurimento fisico e mentale, classico di molti surfisti malati come te e come me. Uno dei ruoli della taurina del corpo è quello di regolare l'equilibrio idrico delle cellule, perché è coinvolta nella regolazione della pressione osmotica all'interno delle cellule, il che significa che anche in questo senso può aiutare a prevenire la disidratazione cellulare. Però se soffri spesso di crampi in qualsiasi situazione non sarà la taurina ad aiutarti. Sul bilancio elettrolitico e stimolo neuromuscolare ci sono fattori molto più importanti da considerare prima di pensare di prendere la taurina. Sappilo e fatti un cerchio completo da un professionista se soffri di questo problema. Il dosaggio di taurina sembra essere efficace a 1 a 3 grammi in fase acuta 30-40 minuti prima dell'attività fisica. Proteine in polvere. Anche se non le ritengo un integratore, ma un alimento vero e proprio, sono molto utili per i surfisti che non riescono a raggiungere la propria quota giornaria da proteica solo dal cibo. Sono molto facili da assumere e possono essere miscelate con acqua o frullati. Le portate ovunque per essere consumate nelle pause di una sessione di surf o anche dopo e durante il viaggio di ritorno. Le metterei sempre in varigia quando si viaggia all'estero, perché spesso è difficile avere pasti organizzati con un buon quantitativo proteico. Nella maggior parte dei viaggi brevi in cui non si può organizzare la spesa, sono molto utili le proteine in polvere da portarsi dietro per necessità, da utilizzare come snack da fare nel corso della giornata o da abbinare a colazioni o pranzi veloci. Si trovano anche in formato monodose e campioni prova, che sono ancora più facili e veloci da utilizzare nei viaggi. Fare pasti con un buon apporto proteico durante la giornata ci aiuta a modulare meglio l'appetito e la sensazione di fame e sazietà grazie a un rilascio costante di ormoni anoressizzanti, ma qui entriamo nel mondo del siamo fatti così in maniera biochimica. Non annoiamoci. Insomma, un buon apporto di proteine sparso durante la giornata di surf, anche tramite l'utilizzo di proteine in polvere, non porterà a sviluppare quella fame atavica verso sera. Nel contempo già assicuriamo al nostro corpo una parte degli amminoacidi essenziali che gli servono per contrastare il catabolismo muscolare demoniaco di chi surfa senza ragione, perché sa cosa vuol dire entrare in acqua bello, giovane e fresco e uscire anziano, arrappato e ubriaco, ma felice. Almeno le proteine ci aiuteranno a preservare di più le nostre amate fibre muscolari e ci daranno anche modo di recuperare prima per tornare giovani, belli e raggianti il giorno dopo. Consiglio da utilizzare in dosi tra 20 e 30 grammi alla volta, disciolti o frullati con una buona quantità di acqua a minimo di 200-300 ml. Sali minerali. I sali minerali sono molto importanti in sport come il surf. Le formulazioni di elettroliti con sodio, potassio, magnesio e calcio sciolti in acqua prima di entrare in mare e nelle pause permettono una migliore idratazione e ripristino dei sali minerali persi durante l'attività fisica, soprattutto di sodio. Per me la formulazione più adeguata in questi casi è questa. Con il giusto bilanciamento di sodio e potassio specialmente. Questi li trovate su Prozis con il codice Tiger Mood. O se prendete altre soluzioni cercate sempre qualcosa di simile in cui ci sia sempre un apporto di sodio maggiore rispetto agli altri minerali. Gel, maltodestrine, ciclodestrine, vitargo, destrosio, ecc. Anche questi zuccheri in gel o polveri potrebbero essere utili quando le sessioni sono lunghe e impegnative, così da mantenere alti livelli di glucosio in circolo e percepire meno la fatica. Inutili se la sessione dura circa un'oretta. Ma se la sessione si allunga, possiamo inserirli nelle pause fuori dall'acqua, come fonti di carboidrati veloci. Utilizzerei circa 30-40 grammi di questi composti totali l'ora, meglio sabbinati con i sali minerali, in non meno di mezzo litro di acqua. Le ciclodestrine vengono assorbite più facilmente, anche con meno quantitativo di acqua senza portare problematiche gastrointestinali che spesso le altre formulazioni possono dare. Un'ottima fonte di acqua, zuccheri semplici e sali minerali è l'acqua di cocco. Ti aggiungerai solo del sodio per rendere il bilanciamento elettrolitico più ottimale alle nostre esigenze. Questo sempre se siete del genere esotico. Ora passiamo al capitolo dolente per il surfista. L'alcol. La viretta dopo la surfata al tramonto è un must per il surfista, come il cocktail, il calice di vino o lo shortino al locale per concludere la serata. L'etanolo è beleno in tutte le sue forme e dosi. In quantità eccessive danneggerà in maniera acuta il recupero muscolare e mitocondriale, influirà sul sonno e quindi direttamente sulle prestazioni, sui livelli di energia, sulla salute ormonale e mentale. O anche aggravare eventuali infiammazioni subite durante la surfata rendendo i tempi di recupero ancora più lunghi del necessario. Se scegliete di bere alcolici fatelo sempre con consapevolezza. Non è certo una biretta al tramonto durante un surf trip di una settimana che vi ucciderà, ma il farlo diventare un'abitudine introdurre alcol più volte la settimana o addirittura più volte al giorno, che sicuramente sarà molto deleterio per tutto il corpo, in primis per il cervello. Cin cin. Quando soddisfi le esigenze del tuo corpo, avvicinandoti alla sua richiesta nutrizionale con attenzione e dedizione, ti assicuri di essere ripagato con tutta l'energia di cui hai bisogno per surfare per ore e ore, nonché per recuperare più agilmente e velocemente. Un regime coerente di corretta alimentazione per il surf non deve essere complicato e non significa sacrificare il gusto del buon cibo, poiché il buono dovrebbe concentrarsi maggiormente sui benefici che il cibo offre al tuo corpo e meno sul piacere momentaneo del gusto. Quello lascialo solo per occasioni speciali e goditi il tuo cibo quotidiano facendo scelte più sane che ti appagano. L'alimentazione del surf sarà specifica per le tue esigenze e caratteristiche fisiche. Devi sempre essere curioso o curiosa e sperimentare. Di queste verità nascoste di cui ora sei a conoscenza, fanne tesoro e spero ti possono essere utili per migliorare la tua surfata, godertela di più e potenziare il tuo stato di benessere accarezzando la parete del tuo nuovo appartamento. Bene figliozzi, il video termina qui. Se avete domande, dubbi, esperienze e riflessioni scrivetele nei commenti e sarò lieto di rispondervi o insultarvi. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per supportare questo mio progetto di divulgazione pseudoscientifica. Mettete un mi piace, lasciate un commento e condividete il video. E questo mi dà lo stimolo per portare sempre nuovi contenuti fantascientifici. Mi trovate anche sui social, in descrizione trovate tutti i miei contatti. Ci vediamo al prossimo Ciak. Un abbraccio e pura vita.